buongiorno a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo qui insieme a me nel mio canale quadrata il canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia in generale l'altra settimana avevamo parlato del nostro amico zabbix con le action e abbiamo visto le trigger action ma questa settimana vi volevo parlare delle action di auto registrazione o auto registration in inglese ok quindi mi aiuterò con i miei fantastico le mie fantastiche slide e che cosa sono queste auto registrazioni e che cosa ci serve per metterle in piedi allora sicuramente ci serve chiaramente in questo caso uno zabbix agent configurato in modalità attiva ok dopo di dopo di che ci serve una configurazione ad hoc dello zabbix agent e una action di tipo auto registration dedicata a poi vedremo far che cosa ma sostanzialmente per automatizzare il processo di inserimento di questo host all'interno di zabbix cosa ci serve come dicevo prima per automatizzare e perché quali sono i campi d'azione dell'auto registration sicuramente negli ambienti cloud ok immaginate un ambiente molto dinamico che genera tante macchine virtuali tutti i giorni magari inseriamo una specie di gold image in cui all'interno è presente l'agente zabbix e quindi quando la macchina viene creata in automatico alla partenza dello zabbix agent il nostro nuovo host si presenterà allo zabbix server e a questo punto partiranno le action di autoregistrazione è anche utile pensare questa soluzione qui magari anche all'interno di container perché volendo possiamo mettere lo zabbix agent all'interno dei container dipende dalle situazioni sicuramente nell'ambito cloud o comunque nelle virtualizzazioni in generale può essere molto comodo detto ciò quali sono i punti fondamentali l'abbiamo detto prima zabbix agent in modalità attiva e vi ricordo che la modalità attiva e quando lo zabbix agent interroga lo zabbix server come vedete qua e in questa fase si presenta verso lo zabbix server portandogli alcune informazioni per esempio il nome dell'host l'ip address eccetera a questo punto lo zabbix server farà delle cose banalmente non fa nulla se non abbiamo configurato delle action ma se noi abbiamo configurato già in precedenza l'host andrà a informare l'host che si è presentato di tutta la lista dei check che dovrà eseguire quindi controlli che dovrà eseguire se non abbiamo nulla all'interno dello zabbix server appunto è il caso dell'auto registrazione quindi in questo caso noi dovremo andare a compilare all'interno del file di configurazione dello zabbix agent e lo vediamo qua scusate qua alcune alcuni dettagli lo zabbix server active il parametro fondamentale in generale per la configurazione del dello zabbix agent in modalità attiva quindi dobbiamo dirgli chi è lo zabbix server quindi poi p o nome dns 1 name ma lo name vuol dire che cosa vuol dire il nome dell'host per noi come stringa statica quindi questo parametro è una stringa statica di default lo zabbix agent può anche utilizzare l'host name della macchina reale quindi se noi andiamo a remmare andiamo a commentare questo parametro qua host name lo zabbix userà l'host name della macchina altrimenti possiamo usare altre soluzioni per determinare quale l'host name della macchina su cui è installato lo zabbix agent ok però queste sono i due parametri fondamentali sono le coordinate utili allo zabbix server in generale quando si parla di monitoraggio attivo in zabbix dopodiché invece per la parte di autoregistrazione sicuramente è consigliabile utilizzare questi altri parametri host metadata che è un parametro che prevede una stringa statica e ci possiamo mettere quello che vogliamo oppure host metadata item e quindi questa è la cosa più furba perché praticamente possiamo utilizzare un item key dello zabbix agent come sorgente dei dati che dovremmo sparare al nostro zabbix server questo perché perché ci dà una dinamicità no nel nel poter informare lo zabbix server di questi parametri e sicuramente è molto utile appunto quando lavoriamo nell'ambito cloud perché l'immagine e la configurazione dello zabbix agent magari rimane sempre invariata e tramite queste soluzioni qui andiamo a customizzare tutte le volte la configurazione dell'agent in base a dei parametri che sono magari inseriti all'interno dell'immagine della macchina quindi è molto furba altro parametro host interface anche questo questo ci permette di andare a definire qual è il nome dns che dovrà essere appiccicato alla configurazione all'interno dello zabbix server per questo host anche in questo caso è una stringa statica esiste il parametro host interface item che di nuovo va a eseguire per esempio qua una system.run quindi un item key dello zabbix che esegue il parametro hostname e così ci fa tornare indietro per esempio il hostname della macchina potrebbe essere qualunque cosa ok ma serve sostanzialmente a fornire allo zabbix server anche questa informazione quindi l'interfaccia di quando parliamo di dns name andiamo avanti è valida chiaramente questo in questa configurazione qua è valida sia per l'agente classico che per l'agente 2 ok dopodiché dopo aver configurato lo zabbix agent comunque ed è fondamentale dobbiamo andare a creare una action di tipo auto registration quindi sotto alert actions l'altra volta avevamo visto le trigger action questa volta andiamo a vedere le auto registration action ok nelle auto registration action troveremo una maschera che era veramente molto molto simile alle action che avevamo visto in precedenza anche questa ha un nome giustamente per identificare le varie action di questo tipo in questo caso ho messo my auto registration e poi abbiamo delle condizioni e sono queste che vanno poi a determinare come si dovrà comportare alla presenza di quell'host specifico e qui possiamo mettere per esempio che come condizione l'host name e quindi contiene una determinata stringa oppure host metadata quindi il contenuto delle informazioni metadata che stanno arrivando va a influire su poi le operazioni che andremo a svolgere oppure se arriva da uno specifico proxy anche questo può essere molto utile perché magari ci sono delle operazioni diverse in base alla provenienza di questo post nelle operazioni come abbiamo visto anche per le precedenti action possiamo fare un insieme di comandi ok per esempio possiamo notificare tramite i media type dello zabbix per esempio si presenta il nuovo host e quindi mandiamo una notifica che dice guarda abbiamo c'è un nuovo host fai attenzione dopodiché però magari inizia a fare delle cose tipo delle auzioni delle degli script o delle azioni che vediamo qua proprio del dell'interna di zabbix quindi aggiungere un nuovo host rimuovere un host aggiungerlo a uno specifico host group link agli un template quindi collegarlo a un modello di monitoraggio abilitare l'host aggiungere magari un questo host andarlo a flegare che deve utilizzare l'inventory mod quindi ci sono un insieme di possibilità che abbiamo a livello di operazione chiaramente possiamo fare più step di operazioni come avevamo visto anche per le action di tipo trigger quindi come dicevo prima possiamo mandare un messaggio poi aggiungerlo a un host group specifico e poi in un altro step collegarlo con un template specifico ok quindi questo che cosa ci serve ci serve per automatizzare come dicevo prima per esempio il processo di deploy di un sistema linux o windows la gente per assurdo non sa nulla se non che recuperare le informazioni che legge da qualche parte ea questo punto lo zabbix server in base ai dati che ha ricevuto andrà a fare tutte queste azioni che vi ho mostrato sappiate come spoiler che dalla 7.0 si aggiunge una nuova operazione possibile ed è aggiungi tag o aggiungi anche rimuovi tag all'host specifico questo è molto utile perché a questo punto possiamo introdurre delle meta informazioni come i tag all'interno dell'host è molto comoda questa cosa detto ciò andiamo a vedere un caso direttamente dal vivo perché mi sono preparato una macchina anzi vi faccio vedere direttamente nel file di configurazione prima andiamo a vedere per esempio qua come ho configurato questo agent 2 dicevo parametro fondamentale e il server active ok il parametro server active che va a definire qual è il nostro zabbix server a cui chiedere queste informazioni o comunque a cui consegnare le informazioni nel caso autoregistration in questo caso è localhost quindi 127 001 dopodiché altra cosa fondamentale era l'host name ok qui ho messo io a mano il nome fisso però volendo potevamo bremmare e utilizzare l'host name della macchina su cui ho installato lo zabbix agent questo mi serve solo per semplificare un po la demo dopodiché è l'altro parametro utile e qua vi volevo far vedere qualcosa di un pochino più innovativo quindi avevamo detto host metadata e la parte il parametro statico che possiamo andare a customizzare dentro nella gente ma io volevo farlo dinamico e utilizzare host metadata item in questo specifico caso ho utilizzato light and key file content quindi cosa fa lo zabbix agent va a vedere il contenuto di questo file e quindi si porta dietro tutte le informazioni che sono all'interno di questo file in questo file se andiamo a vedere cosa andiamo a trovare andiamo a trovare la dicitura linux o windows in modo tale da istruire lo zabbix server a cambiare o aggiungere il template specifico di questo host in base a quello che trova all'interno di questo file vi faccio vedere andiamo a cancellare questo host andiamo a brasarlo via in modo tale da andare a creare e vedere tutto il processo adesso stoppo l'agente andiamo a stoppare l'agente se trovo system ctl stop zabbix agent agent 2 ok lo vado a stoppare vado a cancellare sul nostro zabbix server vado a cancellare l'host ok lo cancello via non c'è più quindi qua dentro vedete che il filtro è vuoto vado a riaccendere non vi faccio vedere la console ma abbiate fede vado a riaccendere il lo zabbix agent 2 e tra poco ecco vedete che lo zabbix server ha ricreato il mio host come ha fatto semplicemente perché abbiamo fatto una action autoregistration qua ci sono due action una per l'ambiente linux l'altra per l'ambiente windows ok quindi quando lui va a leggere queste condizioni quindi se i metadati contengono linux e lo name si chiama testos 900 aggiungilo allo sgruppi youtube metti il template linux by zabbix agent e togli il template windows by zabbix agent questo perché perché poi vi voglio far vedere un'altra cosa carina qua la stessa cosa ma fa al contrario quindi quando legge windows ci mette il template windows e toglie quello linux questo perché come vi dicevo prima un'altra cosa molto carina è che lo zabbix è in grado di seguire il 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 contenuto delle informazioni che lo zabbix agent trasmette quindi se oggi quella macchina legge sul file linux andrà ad collegargli il template linux come vedete se io adesso mi sposto e vado a fare eco e ci metto windows quindi il contenuto di quel file sarà win a questo punto lo zabbix a un certo punto in base ai dati che sta trasmettendo lo zabbix agent andrà a modificare il template andiamo a vedere da qua quindi va a slincare il template come vedete auto magicamente qua è cambiato in windows quindi è molto interessante perché qui potremmo adesso ho fatto un caso di questo tipo ma immaginate una macchina che magari oggi è una macchina linux domani è una macchina linux con apaci o apaci e mysql e eccetera in automatico quando andrà a rilevare questi nuovi software all'interno della macchina in automatico lo zabbix agent andrà a segnare il template di monitoraggio corretto per questo host quindi è veramente molto molto interessante detto ciò chiaramente potevo farvi anche un esempio più complicato ma questo è già rappresentativo del fatto di far che cosa fare in modo che all'interno di un ambiente più o meno complesso di monitoraggio noi semplicemente facendo degli accorgimenti all'interno del file configurazione lo zabbix agent possiamo senza andare a creare a mano il nuovo host in automatico aggiungerlo senza che nessuno ci dica niente aggiungerlo al monitoraggio e anche assegnare un template corretto in base alle informazioni che stanno arrivando allo zabbix server e quindi anche puoi seguire eventuali cambiamenti all'interno dell'host per assegnare i template corretti quindi è molto molto interessante per oggi è tutto io vi ricordo chiaramente di iscrivervi al canale perché siete in tanti a vedermi ma non tutti sono iscritti quindi iscrivetevi al canale e iscrivetevi chiaramente anche a zabbix italia siamo tantissimi e è una bella community tra l'altro vi ricordo che a ottobre c'è la zabbix summit noi siamo premium partner anche di questo evento tra sarò lì presente a riga ed è il 6 7 di ottobre se non sbaglio c'è ancora tempo per iscrivervi e eventualmente ci vediamo direttamente lì a riga tutti insieme a verci una birra per oggi è tutto ci vediamo la prossima settimana un saluto da dimitri ciao a tutti